ciao ragazzi buongiorno è da un pochino che non ci si vede allora innanzitutto incomincio chiedendovi scusa perché la pubblicazione è in pausa da un po' ed è il motivo per cui sono qui oggi cioè spiegarvi perché la pubblicazione è in pausa allora nulla di grave semplicemente gli impegni lavorativi stanno diventando importanti e ragazzi ovviamente devo dare la priorità al lavoro perché non guadagnando con youtube ma lavorando in un'azienda devo assolutamente dare la priorità al lavoro saranno dei mesi abbastanza impegnativi per fortuna dico però volevo rassicurarvi che le pubblicazioni riprenderanno appena possibile casomai aspettiamo anche che passi questo inverno perché ha già anche un po' reso e infatti girare all'esterno risultava sempre sempre più difficile cioè ragazzi vi assicuro che mangiare a mani scoperte girare vloggare non è semplice in queste condizioni quando ci sono meno 2 1 meno 5 perché qui da noi fa freddo e quindi magari ne approfittiamo per scavallare questo periodo spero spero di vedervi presto nel senso che a livello cioè allo schermo ci siamo capiti e niente ragazzi quindi state sempre allerta appena vedrete la notifica tra due settimane un mese due spero di no però quando sarà vuol dire che siamo tornati ciao ragazzi buona giornata grazie a tutti